Allora, inizia! 1 euro! 2 euro! 2 euro! Deci euro! 15 euro! 15 euro! 15 euro! 15 euro! anche quest'anno ripetiamo la manifestazione dell'asta di San Giuseppe una delle tradizioni più antiche della storia moderna della città e allora con questo la vogliamo riprodurre le sensazioni, le emozioni che provano da generazione gli augustani riproducendola con lo stesso banditore Pippo Passanisi che sta vendendo, vendendo è una parola grossa le latte di pizza, i guzzuruni che sono stati comprati dai genitori e vengono messe in vendita simulando l'asta infatti i prezzi che propongono i bambini, soprattutto quelli più piccoli sono assolutamente impensabili arrivano a 80 euro una telia di pizza, sarebbero impensabili in realtà loro simulano, è un gioco di ruolo, un gioco collettivo e poi di vero, reale, c'è alla fine la grande festa, pizza per tutti e anche l'immancabile torrone di mandorla a forma di bastone di San Giuseppe è un contributo al mantenimento delle tradizioni che i ragazzi apprezzano, è un giorno di festa per tutti